amici buongiorno a tutti io sono michele e benvenuti su mcarp oggi ragazzi sono tornato dopo due settimane di ferie quindi non vedo l'ora di buttare le canne in acqua ma c'è sempre un però nel senso che prima di iniziare a pescare se non si pastura in alcune zone difficilmente si prende ma prima sigla come dicevo prima della sigla ragazzi a volte è meglio pazientare avere quindi non buttare subito in acqua le canne perché si rischia poi di fare dei cappotti che ci vanno a demoralizzare ma oggi tornato dopo due settimane di ferie ho deciso di fare una piccola pasturazione oggi è giovedì pastorerò un pochino oggi pastorerò quindi sabato faccio a giorni alterni quindi giovedì sabato poi verrò a pastorare anche lunedì e mercoledì poi ci aggiorneremo sulla pescata nel senso che mercoledì andrò a pesca e dopo vedremo come andrà la situazione la giornata se ho fatto un buon lavoro oppure no utilizzerò delle esche delle boilers da 20 mm e da 24 mm oggi è il primo giorno dove non ci sono 37 gradi e quindi c'è stato un temporalone questa notte sembra che le temperature inizino a calare è quasi una una diretta questa nel senso che andrà pubblicherò questo video tra qualche tra qualche giorno siamo verso metà settembre quindi tra qualche giorno verrà pubblicato questo video poi prossima settimana come sempre al venerdì pubblicherò il secondo video con la pescata sia che vada bene sia che vada male adesso vedremo spero spero che andrà bene naturalmente è quasi una diretta quindi non vi non vi riesco a svelare che cosa succederà tra tra una settimana spero che il lavoro vada bene quindi che sia tutto tutto perfetto altre cose da dire quindi 20 mm 24 mm perché perché pesce di disturbo qui è ancora attivo e andiamo a puntare alla ricerca di una carpa un po più importante la cosiddetta big vediamo un po questa zona mi ha regalato delle carpe importanti ultimamente ho preso delle belle carpe ma niente di eccezionale quindi cercherò in questo in questa maniera di prendere un un pesce più 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 interessante tra virgolette anche perché come sapete qualsiasi carpa andiamo a prendere almeno che che prendo io è un ricordo comunque un bel un bel ricordo un'emozione in ogni caso però il car fishing nasce appunto per andare a cercare le carpe più sospettose e soprattutto le carpe più importanti e e quindi in questo canale andrò a cercare le carpe più importanti con una pasturazione preventiva un po più mirata tra virgolette mirata appunto con delle 24 mm cercando quindi di andare a eliminare quel pesce di disturbo e quelle carpe un po più piccole utilizzerò varie 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 vari marchi varie aromatizzazioni varie esche varie montature prima di tutto utilizzerò delle 24 mm questa questo tipo di di esca una 24 mm che sono le non mi come si chiara che gusto sono ecco qua crostacei e pepe e pepe nero 24 mm fanno parte della linea 500 natural si 500 che sono quelle date anche per pasturazioni un pochino più importanti in questo caso quindi non andrò a stancare il pesce ma creerò una buona attrazione non esagero con la pastura perché questo perché appunto non voglio stancare il pesce non voglio che il giorno che vado in pesca poi il pesce sia già saffio e soprattutto la 24 mm andrà a fare un po di selezione quindi in questo caso mi interessa che arrivi sull'esca anche la carpa un po più grossettina cosa che con la 20 mm molto probabilmente attirerei un po tutte le carpe poi se vedo che in pesca è più difficoltoso rimanerci perché il pesce di disturbo rimane attivo e quindi sentirò vari bip che sono quelli appunto dei pesci un po più piccoli che non riescono ad amarsi con una 24 mm allora che cosa farò utilizzerò delle boilers un po più dure tipo queste qua sono è la linea sempre crostacea e pepe nero si chiamano boosted oak bait nel senso che le hanno già messe nel loro liquido e queste le fanno massimo 22 mm però posso fare anche una coroncina che qua ci sono le 12 le 16 le 22 posso mettere una 22 con una piccola pop up in maniera che la rendo un po più leggero ma sono sicuro che queste la le carpe più piccole o comunque il pesce di disturbo non non me le rompa ecco e quindi di non rimanere senza esca dopo poco le pop up anche quelle non si rompono quindi non è un problema che cosa utilizzo utilizzerò su questa canna qui quindi una 24 mm inizialmente poi se vedo che l'esca rimane in pesca per poco perché me la mangiano metterò una 22 con una pop up e utilizzerò un blowout rig in quel caso perché blowout rig perché penso che per l'affondante sia la cosa migliore e soprattutto una 20 mm non è una 24 non la vado utilizzare con uno spinner perché rischio di averla troppo vicina al gambo del lamo e di non fare e di fare si chiama effetto ombra sul lamo nel senso che la boyless lo va a coprire a ricoprire e quando la carpa sputa la boyless sputa anche l'amo senza che l'amo riesca a girarsi questo è il classico effetto ombra quando abbiamo poca distanza il cappello è troppo poco distante dal dalla curvatura del lamo quindi teremo una una distanza dell'airico un pochino più generosa con un amo del 2 in questo caso mi piace usare massimo l'amo del 2 non mi piace l'uno troppo troppo grande ma non finisce qui perché cosa utilizzerò utilizzerò anche e in questo caso uso lo spinner perché secondo me lo spinner su queste acque è quello che mi dà più soddisfazioni nel senso che vedo le allamate migliori quindi blowout e spinner rig sono ormai i due i due tipi di di terminali che che utilizzo utilizzerò sempre piccola piccola pasturazione con queste che sono le le top boyless di boyless le super spice non utilizzo del fruttato perché perché il fruttato soprattutto fragola vedo che mi attira veramente tantissimo i siluri e qui ci sono anche tanti siluri quindi se mi entrano in pesca i siluri è finita tanto uccido due tre mila zanzare che mi si attaccano alle gambe è finita quindi se va in pastura un siluro posso dire addio alla mia alla mia pescata perché poi se arrivano i siluri carpe così non abboccano più si allontanano quindi la super spice boyless questa è un'esca da 20 mm avevo richiesto anche la 24 indurita ma al momento non ce l'ho ancora che mi piacerebbe veramente molto molto provare comunque mi accontento della 20 mm questa è sono utilizzano all'interno delle farine col plasma quindi sono veramente molto molto attrattive intanto uccidiamo sempre queste zanzare tigre che mi stanno massacrando ed è bella dura quindi anche questa mi piace molto perché bella dura in alternativa però calcolate che io faccio pescate di mezza giornata massimo massimo 7 8 ore ma al massimo quindi posso utilizzare anche la serie uccubate quel di quella più più dura con le esche più dure però naturalmente rilascerà più lentamente la il proprio aroma quindi consiglio eventualmente di utilizzare questa come esca che già tiene molto sul lamo e come pasturazione poi adesso vedo di non utilizzerò questa serie qui che è la sempre stesso aroma quindi super spice ma sempre col col plasma e tutto ma la serie fast la serie fast e quella che si scioglie più velocemente quindi perfetta appunto nella 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 pasturazione poi aia ecco qua c'era anche il sangue di questa zanzara quindi mappificato sicuramente ultima tipo di boiler che vado ad utilizzare è questa qua la mtc baits anche questa ce l'ho nella sezione 20 mm la fish and garlic una boilers eccezionale ho avuto l'onore il piacere di conoscere un po tutto lo staff di mtc baits ed effettivamente dice tanta tanta passione tanta competenza che è professionalità e anche in questo caso quindi vado ad utilizzare delle boilers di ottima ottima qualità che mi hanno dato anche queste molte molte soddisfazioni soprattutto nelle ultime pescate bene o male tra queste e le super spice ho preso tutto con queste due tipi di esche quindi ripeto non farò una pasturazione eccessiva nel senso che massimo massimo mezzo chilo di boilers ma ad esagerare perché stiamo parlando comunque di una di uno spot di una posta piccola dove non c'è corrente quindi dove vado a lanciare rimangono in quella zona lì quindi non voglio creare chissà cosa forse anche meno di mezzo chilo ne andrò a buttare facendo quindi un porpurì un mix di tre aromi diversi fondamentalmente con due diametri il 20 mm e il 24 mm ripeto poi come terminali utilizzerò degli spinner rig per quanto riguarda le 20 mm e dei 24 mm utilizzerò dei blowout perché c'è più mobilità altre cose ragazzi direi che non ci sono da dire dopo naturalmente nel prossimo video vi farò sarete in pesca con me quindi mi raccomando questo è importante iscrivetevi al canale quindi iscrivetevi attivate la campanella così venerdì prossimo non vi dimenticherete del nuovo video perché ogni venerdì alle 18 esce un nuovo video e con la campanella attivata verrete sempre avvertiti e quindi chissà siamo alla ricerca della big con una pasturazione preventiva tre giorni di pasturazione e poi si va in pesca quindi ci vediamo la prossima settimana il prossimo venerdì alla prossima ciao